Sono benedetti i decreti come questo e tutte le iniziative dell'amministrazione, della politica a favore delle attività musicali, della musica non soltanto considerata dal punto di vista estetico ma dal punto di vista dell'aggregazione sociale. Noi sappiamo, abbiamo capito tutti quanto è importante usare la musica per l'aggregazione sociale. Non mi stanca mai di ripetere che se all'inizio quando si è fondata l'Unione Europea si fosse speso qualche spicciolo in più per creare orchestre europee, corpi di ballo europei, compagnie europee e forse sarebbe più facile anche superare certe barriere politiche ed economiche oggi. Quindi, detto questo, non possiamo che essere felici di questo decreto che darà inizio a qualcosa di proficuo. Speriamo poi che l'attività sia partita del decreto e soprattutto speriamo che poi il cammino non si interrompa bruscamente. Grazie. Grazie.